La Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione del locale procura della Repubblica, ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari emesse dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di un ragioniere di suo figlio per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Le indagini hanno permesso di appurare che il primo redigeva e trasmetteva all'Agenzia delle Entrate, con la complicità del figlio, false dichiarazioni dei redditi di cittadini extra comunitari. Per ogni singolo documento veniva preteso un corrispettivo variabile dai 15 ai 20 euro. In tal modo i clienti del ragioniere riuscivano a documentare falsamente il possesso del reddito minimo necessario per ristruire le pratiche amministrative di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività, stando a quanto accertato dalle fiamme gialle, si è protratta per molti anni. Dal 2013 al 2017, infatti, il ragioniere avrebbe prodotto più di 10.000 dichiarazioni dei redditi, tutte relative ad extracomunitari. È un fenomeno quello dell'immigrazione clandestina tenere sempre sotto controllo, ovviamente la procura di Salerno ha tra i suoi obiettivi anche questo. L'indagine ha segnato un momento importante per chi ha consentito di svelare alcuni meccanismi troffaldini che consentivano agli extracomunitari in grosso numero di ottenere permessi di cosiddetto lungo periodo. È chiaro che l'indagine potrebbe avere anche altri risvolti, ma su questi ultimi c'è il riservo. L'intenzione è quella evidentemente anche di completare l'attività di indagine sotto un profilo fiscale, per cui essendo emersa la percezione di redditi derivanti da attività illecite, la norma prevede in questi casi che si provveda alla tassazione di quello che è stato illegittimamente percepito dal professionista. Questa indagine è un esempio virtuoso di come unendo le competenze e le specialità delle forze di polizia si possono raggiungere risultati concreti, perché evidentemente la questura e in particolare l'ufficio immigrazione è l'interfaccia degli immigrati per quanto riguarda il disbligo delle procedure amministrative per il rilascio dei permessi soggiorno. Però il perfezionamento della pratica presuppone anche la dimostrazione di una disponibilità di redditi che rende plausibile l'inserimento degli immigrati nel tessuto economico del nostro Paese.